Salve a tutti e benvenuti nel rifugio e benvenuti anche in questo primo video della rubrica Chiedimi una storia, rubrica che ho creato appositamente per permettere a voi di interagire con il sottoscritto appunto chiedendo di portare sul mio canale una determinata storia Disney e voglio iniziare appunto questa rubrica con una storia che mi è stata consigliata dal Buon Mars, utente storico del canale che già molte volte in realtà mi ha suggerito delle storie e non vi nego che io ho aperto questa rubrica specialmente grazie a lui perché appunto chiedendomi spesso queste storie mi è venuto in mente di creare questo piccolo spazio e spero che la cosa sia gradita e quindi per omaggiare in Buon Mars oggi porterò la storia in questione ovvero Paperino e la piramidina di Ment Akut, storia uscita originariamente sul topolino numero 2096. Eccoci qui ragazzi quindi con il primo video della rubrica Chiedimi una storia con la storia intitolata Paperino e la piramidina di Ment Akut, storia uscita originariamente sul topolino 2096 del 30 gennaio 1996 con i testi di Carlo Gentina e i disegni di Salvatore Deiana, Salvatore Deiana che abbiamo visto già in una storia che vi ho portato di recente sul canale sulla rubrica storie Disney ovvero le storie preferite della mia infanzia, la storia in oggetto era quella dedicata al malloppo di Alcrapone, in questo caso invece abbiamo una storia dal diciamo fattore archeologico potremmo dire, storia questa che è stata anche ristampata possiamo vedere grazie a Indax, sui Supermiti Mondadori 1 ovvero le disavventure di Paper Ramses, Paper Fantasy numero 31 del 99 quindi la vecchia serie di Paper Fantasy, Disney Big 47 e le più belle storie Disney numero 18 dell'antico Egitto oltre a Disney Big 108 e le più belle storie Disney Pocket quindi diciamo è stata ristampata molte volte ma iniziamo subito a parlare di questa storia, inizia la storia al museo dell'architettura di Paperopoli che è un museo che addirittura la didascalia non consiglia di visitare perché non c'è nulla di valore e niente di interessante ovvero una colonna, mezza colonna, due capitelli e qualche fotografia e basta, vediamo che il custode del museo è Paperino e una volta che il turista va via, Paperino va dal direttore che stava riposando ovvero stava studiando i geroglifici e dà il compenso della giornata ovvero 3 dollari e il direttore si congratula addirittura dicendo che questo mese raggiungeranno quota 10, poi vediamo Paperino che torna al lavoro ovvero a dormire e il direttore anche quindi vediamo che sono proprio due fannulloni, il museo però rimane aperto perché comunque dà lo stipendio al direttore e anche a Paperino però vediamo che poi Paperino mentre torna a casa dal lavoro ascolta una notizia ovvero che verrà diciamo indetto una nuova figura nel comune di Paperopoli e il sindaco appunto ha dichiarato una guerra agli sprechi e quindi verrà nominato un commissario speciale che esaminerà le istituzioni pubbliche e chiuderà tutte quelle che risulteranno inutili e quindi Paperino si preoccupa già che il museo dell'architettura possa essere chiuso quindi ne va a parlare col direttore, il direttore dice che per diciamo evitare questa chiusura del museo bisognerà fare una scoperta molto importante e fa vedere a Paperino che durante le sue traduzioni delle varie fotografie dei geroglifici si è imbattuto in questo geroglifico che racconta la storia di Ment Akut ovvero un architetto egizio egiziano che scolpì in una roccia una piccola piramide la piramidina di Ment Akut che poi verrà presentata al faraone Tutuntok e quindi il faraone grazie a questa idea cominciò a far costruire le piramidi quindi abbiamo il vero prototipo delle piramidi la piramidina ha un valore storico enorme quindi se Paperino e il direttore la trovassero il museo diventerebbe di importanza internazionale e non potrebbe essere chiuso così Paperino decide di partire in questa impresa però il direttore gli spiega che già solo la licenza di scavo in Egitto costa 100.000 dollari e quindi con i loro fondi non potrebbero comprare neanche una pala e qui a Paperino viene un'idea malvagia ovvero si faranno aiutare da zio Paperone e per convincerlo faranno una piccola modifica la traduzione dei geroglifici basterà dire che la piramidina in realtà è d'oro quindi zio Paperone con il desiderio ecco di trovare questa piramide che potrebbe andare a finire nelle sue tasche perché il direttore gli dice che comunque a loro basterebbe mostrare una copia della piramide mentre l'originale potrebbe custodirla lo zio Paperone quindi accetta quindi i nostri Paperi saranno pronti per partire la volta dell'Egitto però come al solito c'è di mezzo qualcuno qualche antagonista ovvero la banda Bassotti che grazie a 176 barra 8 ovvero un parente meccanico della banda Bassotti che lavorava proprio all'aeroporto al jet di zio Paperone spiffererà tutto appunto ai Bassotti che si imbarcheranno nell'aereo di nascosto e appunto in incognito spieranno tutte le mosse dello zio Paperone e dei nostri diciamo ricercatori ovvero il direttore del museo e Paperino qui vediamo intenti a farsi una bella dormita e zio Paperone nota come siano molto affini questi due insomma vediamo che una volta arrivati sul sito dello scavo indicato appunto dai geroglifici si metteranno a scavare vediamo che zio Paperone troverà la punta della piramide però nota già che questa punta non è d'oro ma è di pietra qui vediamo che alla fine il direttore spiega che forse ecco si saranno sbagliati nella traduzione poi vediamo i Bassotti che entrano nel mezzo della questione e imprigionano il direttore Paperino e zio Paperone all'interno di questa rovina egizia e addirittura faranno saltare in aria l'ingresso qui vediamo che bella la pubblicità degli Epidinos davvero questi uscivano dalle sorpresine del nuovo kinder ed erano bellissime queste sorpresine erano proprio di un materiale plastico quasi simile alla porcellana davvero bellissime e quindi abbiamo l'inizio del secondo tempo dove i nostri direttore Paperino cercheranno per salvarsi la pelle di inventare un'altra bugia ovvero nei confronti dei Bassotti dicendo che chi porterà la piramide la piramidina Paperopoli al museo avrà un premio di milioni di dollari adesso mi ricordo quanto sì il milione di dollari un milione di dollari quindi faranno saltare comunque l'ingresso della piramide della tomba qui e imprigioneranno a zio Paperone e compagni e cercheranno con non molta anzi con non poca fatica di portare la piramidina a Paperopoli mentre i nostri eroi si salveranno grazie al fatto che si ritroveranno diciamo a passare lì vicino i agenti della pattuglia cammelieri quindi verranno liberati Paperone dovrà anche pagare i soldi che serviranno per restaurare il tempio danni causati dai Bassotti e vediamo che i nostri torneranno a Paperopoli però vediamo che intanto i Bassotti dovranno passare molte vicissitudini per poter arrivare a Paperopoli e vediamo che una volta arrivati a Paperopoli verranno appunto gabbati da Paperino e il direttore e finalmente questa piramide verrà messa in mostra al museo però vediamo che zio Paperone la cosa li puzza ecco si sente di essere stato ingannato quindi chiederà a pico dei Paperis ovviamente di tradurre il geroglifico e gli chiede se questo geroglifico appunto parla di oro e piccoli dalla conferma che appunto non parla di oro poi vediamo la reazione di zio Paperone che si vendicherà in un modo assolutamente impietuoso e quindi accetterà la carica dal sindaco per essere nominato egli stesso commissario speciale per la soppressione degli enti inutili e quindi la prima cosa che farà è andare a chiudere il museo dell'architettura e vediamo che licenzierà Paperino il direttore e li metterà a lavorare in una produzione di souvenir della piramidina di menta coat che è stata trovata quindi questa è la fine che fanno i pigroni ragazzi questa storia non l'avevo mai letta quindi ringrazio l'utente Mars per avermela suggerita ed avere una storia carina c'è il solito diciamo pretesto per cercare un tesoro fare un viaggio e ci stanno anche diciamo i soliti bassotti che cercheranno di mettere i bassoni tra le ruote ai nostri eroi però comunque è davvero molto scorrevole poi ho già apprezzato vi ho detto nell'altra nell'altro video i disegni di Salvatore Deiana perché sono disegni davvero ricchi di dettagli molto molto precisi qui vediamo tutti i geroglifici in ogni vignetta davvero un disegnatore che mi è piaciuto tantissimo e la storia davvero mi è piaciuta molto fatemi sapere voi se avete letto questa storia intanto andiamo avanti giusto per farvi vedere qualche rubrica dell'epoca abbiamo qui Massimo Lopez Teote Ocoli ragazzi siamo a un numero di topolino del 96 Massimo Di Cataldo vediamo le pubblicità di Disneyland Paris insomma le pubblicità il classico numero degli anni 90 con la pagina dedicata ai videogames abbiamo il topo show insomma vediamo Aldo Giovanni e Giacomo bellissimi articoli anche didattici e sempre relativi anche all'ecologismo vediamo appunto qui come è stato inventato una specie di lavatrice per ripulire i poveri uccelli che si diciamo macchiano di petrolio del petrolio che furiesce dalle petrolieri insomma era una piaga davvero brutta quella delle petroliere che perdevano petrolio negli anni 90 fortunatamente sembra che sia stata risolta perché non se ne sente più parlare o forse non ne parlano appositamente boh chi lo sa pubblicità di Paper Fantasy pubblicità di Pocahontas che all'epoca era appunto uscito il film di Pocahontas nei cinema e poi abbiamo anche altre belle storie come Inzo Paverone e la scommessa mascherata anche questa di Valerio Elde disegnata si riconosce lo stile pubblicità delle giovani marmotte e Topolina e sosia degli antipodi anche questa davvero molto carina come storia insomma ragazzi Topolino degli anni 90 per me hanno una marcia in più ma solamente perché comunque sono i numeri della mia infanzia quindi grazie ancora a Mars per avermi indirizzato a questa storia e scrivetemi nei commenti anche le storie che vorreste che venissero pubblicate e quindi ve le porterò o sceglierò insomma quelle che mi interessano di più e ve le porterò con questo è tutto fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa rubrica e con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao